Buona giornata, domenica 25 aprile, oggi è il 76esimo anniversario della liberazione, in tutta Italia ci sono diverse celebrazioni e questa mattina ci sono state anche a Ferrara, esattamente in piazza Trento Trieste, presso la Torre della Vittoria, tutto quello che è successo questa mattina lo abbiamo riassunto in questo servizio, vediamo. Ferrara ha celebrato il 76esimo anniversario della liberazione, le celebrazioni sono venute a cura del comitato 25 aprile, composto oltre che dal comune e dalla prefettura di Ferrara, da ampi associazioni partigiani cristiani, associazioni combattentistiche patriottiche, associazioni culturali e no profit, autorità religiose, comunità ebraica, istituto di storia contemporanea, istituzioni scolastiche, movimenti femminili, museo del risorgimento e della resistenza, rappresentanze delle forze dell'ordine militari e ufficio scolastico provinciale. Alle 10.30 in piazza Cattedrale, il prefetto Michele Campanaro ed il vice sindaco Nicola Lodi hanno deposto una corona d'alloro alla Torre della Vittoria, alla presenza di rappresentanti delle associazioni partigiane combattentistiche ed arma. Poco prima, alle 10, l'assessore Marco Gulinelli ha presenziato a Porotto ad una cerimonia parallela con la deposizione di una corona al cippo di via Tagliaferri e a quello di via Ladino. In seguito alle restrizioni dovute all'emergenza Covid, le celebrazioni si sono tenute in forma ridotta, senza il consueto alza bandiera. Il programma di iniziative del Comitato Celebrazioni 25 aprile proseguirà fino a martedì 27 in videoconferenza con la presentazione del libro di Daniele Susini, La resistenza ebraica in Europa, storie e percorsi 1939-1945, a cura dell'Istituto di Storia Contemporanea e del Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Questo dunque per quanto concerne il 25 aprile, ma adesso parliamo di coronavirus. Per quello che riguarda i dati relativi a ieri, sono stati comunicati purtroppo 8 decessi nel ferrarese, sono però diminuiti i nuovi contagi appunto nelle ultime 24 ore. Sentiamo dal servizio. 8 ferraresi tra i 69 e i 95 anni sono deceduti per probabili complicazioni apportate da Covid-22 nel resto della regione, torna a salire il numero delle vittime nel territorio estense in cui nel bollettino di venerdì le autorità sanitarie non avevano comunicato nessun decesso. Le buone notizie però arrivano dalla curva epidemica. Calano i contagi 39 nuovi casi con solo 7 ferraresi che presentano sintomi su 542 tamponi eseguiti. Il giorno precedente i nuovi contagi erano poco meno del doppio su un numero di tamponi simile. Sabato comunicati 134 nuovi guariti, lo stesso numero esatto anche del venerdì. Sugli ospedali ferraresi la pressione è simile ma in calo rispetto ai giorni scorsi. L'aggiornamento in Emilia Romagna registra numeri costanti e miglioramento. Quasi mille nuovi positivi, più di 3.000 guariti. Calano ancora i ricoveri e i casi attivi. Capitolo vaccini, superato il milione di Emiliano Romagnoli vaccinati con almeno una dose, dei quali quasi mezzo milione già con due. Nel Ferrarese più di 85.000 le prime dosi e circa 41.000 immunizzati. Fino a ora scarseggiavano le dosi, non certo l'organizzazione, ha detto il presidente della regione Stefano Bonaccini. Con le dosi in arrivo siamo pronti a salire a oltre 40.000 somministrazioni al giorno dalla fine della prossima settimana, secondo l'obiettivo fissato dal piano nazionale per arrivare a 500.000 nel paese. Ritmo che ci permetterà di vaccinare tutti coloro che lo vorranno entro l'estate, conclude Bonaccini. Nel Ferrarese venerdì somministrate più di 2.000 dosi per un totale di 126.000 inoculazioni. E intanto c'è una notizia di cronaca riguarda una festa con 17 universitari in un appartamento di corso Ercole Primo d'Este a Ferrara, stesso corso in cui, ricordiamo, c'è la sede della Questura. È quella scoperta dalla Polizia di Stato di Ferrara che avrebbe sentito rumori e musica ad alto volume provenire da un appartamento al terzo piano di un palazzo. Tutti universitari, originari di diverse regioni, dovranno pagare una multa di 400 euro a testa per un totale di 6.800 euro. Secondo gli agenti, peraltro, un ragazzo di 20 anni sotto l'effetto di alcol sarebbe svenuto cadendo a terra a causa dell'abuso di alcolici. Adesso invece cambiamo argomento. Ieri il mondo della musica e della cultura ha pianto la scomparsa di Milva, una delle più grandi artiste della musica italiana e, come sappiamo tutti, originaria di Goro. Vediamo il servizio. Il mondo della musica piange la scomparsa di Milva. Originaria di Goro, di cui per tutti era la Pantera, la rossa della canzone italiana avrebbe compiuto tra pochi mesi 82 anni. Da tempo malata viveva a Milano. Popolare in Italia e all'estero, ha trionfato sui palcoscenici di gran parte del globo, ottenendo particolari consensi, oltre che in Italia, soprattutto in Germania, dove ha partecipato in molte occasioni ad eventi e spettacoli musicali sui principali canali televisivi. Profondo il cordoglio per la scomparsa di uno dei simboli della musica del nostro paese degli ultimi 60 anni. Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, dove martedì 27 aprile sarà allestita la Camera Ardente, ricorda la sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e incisiva che ha tracciato un capitolo importante della storia della musica e del teatro italiano. Il ministro della Cultura Dario Franceschini la definisce una grande italiana, un'artista che, partito dalla sua amata terra, ha calcato i palcoscenici internazionali, rendendo globale il suo successo e portando alto il nome del suo paese. Molti altri ricordi dell'artista, che per tutti rimarrà per sempre la Pantera di Goro, indissolubilmente legata al territorio che oggi piange la sua scomparsa. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un convegno per fare il punto sulle prospettive future del petrolchimico di Ferrara e della chimica di base nel nostro paese. Quello organizzato per domani, lunedì 26 aprile, anche in vista dei tavoli istituzionali che si terranno nelle prossime settimane. Il primo già fissato in regione per il 28 aprile. Vediamo il servizio. Il riciclo chimico della plastica come via principale da seguire per rilanciare il settore in chiave sostenibile. Sarà questo il tema al centro dell'iniziativa, che si terrà lunedì 26 aprile, organizzata da Cigelle e Cisle Will e dalle rappresentanze chimiche di categoria dal titolo La chimica in Italia nel quadrilatero padano, dopo l'annuncio da parte di Eni della chiusura del cracking di Marghera. Una decisione che coinvolge oltre Venezia anche i petrolchimici di Ferrara, Ravenna e Mantova. Un convegno organizzato prima degli incontri e tavoli istituzionali, il più vicino a quello che si terrà il 28 aprile tra Regione Emilia Romagna e Versalis, per ribadire l'importanza di un settore, la chimica di base, che nel 2019 ha fatturato 55 milioni di euro con oltre 4.300 imprese, 110.000 addetti che salgono 300.000 se si conta l'indotto. Il rischio, spiegano i sindacati, è che si chiudano le fabbriche che producono plastica, quando è ancora fondamentale mantenerne la produzione. L'esempio è quello della pandemia da Covid con l'aumento della richiesta dei dispositivi di protezione individuale come le mascherine e nel settore biomedicale i respiratori. Ma la filiera è molto più lunga, va dal tessile all'automotive sino alla cosmesi. È sbagliato pensare che la transizione ecologica avvenga dall'oggi a domani. Il processo continuo nei sindacati sarà lento, basti pensare che per la decarbonizzazione la data fissata è 2050. La plastica, insomma, come elemento imprescindibile è ancora oggi insostituibile, il cui processo di produzione però deve essere riorganizzato in termini sostenibili. Un tema, quello della chimica verde, sottolineano i sindacati, da discutere con gli stessi ambientalisti puntando su ricerche già attive. Tra queste, il progetto avviato lo scorso otturno dell'impianto di riciclo molecolare Moretec nel petroclimico di Ferrara, tecnologia d'avanguardia di cui Lion del Basele è proprietaria che ha l'obiettivo di riportare i rifiuti di plastica post-consumo alla loro forma molecolare, da utilizzare come materia prima per la produzione di nuovi prodotti di plastica. O ancora, il progetto OPA avviato nella primavera del 2020 al petrolchimico di Mantova da Versalis, Società chimica di Eni, per lo sviluppo di una nuova tecnologia per riciclare chimicamente rifiuti in plastica. Una via verde insomma già tracciata, ma che per essere attuata serve il funzionamento del cracking di Marghera che Eni ha comunicato qualche settimana fa di voler chiudere nel 2022. Per questo i sindacati chiedono chiarimenti ai vertici aziendali e alle istituzioni. L'azienda multinazionale infatti è partecipata per il 30,1% dallo Stato italiano, il 4,3% di proprietà del Ministero delle Economie e Finanze, il 25,7% di cassa depositi e prestiti. Vogliamo sapere, sottolineano i sindacati, quali sono le politiche industriali del nostro paese e soprattutto che cosa si vuol fare della chimica di base. L'appuntamento è per lunedì 26 aprile, a partire dalle 9.30, in diretta sulla pagina Facebook di Filstem, CGL Ferrara, con esperti e sindacalisti. Adesso parliamo invece di un settore che ha già dato prova di serietà e che subisce l'imposizione di parametri più rigidi di altri ambiti che addirittura prevedono il contatto come il calcio e il calcetto. Quello delle piscine, venerdì la WISP Emilia Romagna ha coordinato un tavolo di lavoro sull'impiantistica natatoria raccogliendo la voce di 64 impianti che rischiano di pagare gravissime conseguenze in termini economici e di posti di lavoro. Sostengono appunto i titolari dell'attività che lamentano disparità di trattamento in vista delle riaperture e non escludono il rischio di non poter riaprire viste le difficoltà del momento. Adesso invece cambiamo argomento, è arrivata la copia della Sacra Sindone nella chiesa della Sacra Famiglia in via Bologna Ferrara. L'ostensione ricordiamo che sarà fino al 15 maggio ed era un evento ovviamente molto atteso dalla comunità estense. Sentiamo il perché dunque dal parroco. La copia del Sacro Telo della Sindone rimarrà in chiesa da oggi fino al 15 maggio e proviene dalla Basilica di San Francesco poi partirà per un'altra parrocchia della Diocesi. Parte questa iniziativa dal Santo Padre il quale l'anno scorso e anche quest'anno ha chiesto un'ostensione di una giornata e l'ha ottenuta a Torino per il termine della pandemia. E quest'anno il Santo Padre ha anche chiesto la Maratona del Rosario nel mese di maggio proprio per chiedere al Signore il termine di questa pandemia, di questo avvenimento che interessa tutto il mondo. Quindi fa qualche cosa di mondiale. La Sacra Sindone è in telo, è una reliquia che rappresenta l'uomo della croce, quanto ha sofferto l'uomo che è rappresentato dalla Sindone. La tradizione ci racconta che questa Sacra Sindone avrebbe avvolto il corpo del Signore. Un è un suolo di quattro metri dove appunto il Signore, dice la tradizione, fu collocato. è sempre stata fin dai secoli fino al quarto, quinto secolo è sempre stata presente la memoria di questa reliquia così importante che è giunta fino a noi nonostante le traversie le problematiche che ha subito incendi, furti però si è salvata e ora è a Torino conservata e viene poi esposta di tanto in tanto secondo gli eventi e secondo le richieste che vengono dalla Chiesa. Naturalmente la Sacra Sindone rimarrà qui proprio per la preghiera personale e ne faremo anche oggetto di una riflessione con una conferenza che sarà il professor Giulio Fanti di Padova, ingegnere e un momento di preghiera. E poi ci sarà anche una mostra? Sì, una mostra sempre realizzata dal professor Giulio Fanti e sarà collocata nella cappella Revedin qui a fianco alla chiesa che è stata restaurata con la comune di Ferrara un impegno molto grande che il comune ha messo e quindi ringraziamo anche veramente di questo lavoro la cappella è di proprietà del comune e il comune la concede per questi eventi così importanti e così significativi. E adesso torniamo alla cronaca alcune segnalazioni che arrivano dalla Polizia di Stato. è stato fermato un cittadino extracomunitario nigeriano che a bordo di un monopattino elettrico alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi. Raggiunto alla richiesta di esibire i propri documenti ha riferito di non averli e dai primi accertamenti il ragazzo di 28 anni gravato da vari precedenti penali è risultato inottemperante al provvedimento di espulsione e ordine di allontanarsi dal territorio nazionale. Pertanto è stato emesso e notificato un nuovo provvedimento di espulsione e ordine di allontanamento dal nostro territorio appunto arrivato direttamente dalla Polizia. È stato fermato anche un 38enne sempre nigeriano ma in questo caso regolare sul territorio nazionale proveniente da altro comune senza fornire una valida giustificazione in ordine alla sua presenza in città. Dai primi accertamenti sono emersi a suo carico una pluralità di pregiudizi di Polizia e l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Ferrara per tre anni. E ancora lungo il parcheggio di via Kennedy è stato notato un cittadino intento a fumare uno spinello che alla vista degli agenti lo ha gettato a terra. Fermato ha dichiarato che stava fumando e consegnava spontaneamente una confezione in plastica contenente tre grammi di mariguana. Al termine delle formalità è stato assegnalato alla prefettura come assuntore. Per finire nella giornata di ieri è stata contravenzionata una persona per aver violato a vario genere senza giustificato motivo le vigenti disposizioni in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica della Covid-19. Adesso invece cambiamo argomento. Gli Stati Uniti riconoscono dopo 106 anni il genocidio degli armeni. Il presidente statunitense Joe Biden ha deciso di riconoscere come genocidio l'uccisione di un milione e mezzo di armeni durante il periodo della prima guerra mondiale da parte dell'impero ottomano. Sentiamo. Il 24 aprile il popolo armeno commemora l'uccidio di massa di cui fu vittima durante la prima guerra mondiale per mano dell'impero ottomano. Ed è atteso proprio per oggi giorno del 106esimo anniversario il riconoscimento ufficiale da parte degli Stati Uniti come annunciato dal presidente Biden che l'uccisione di un milione e mezzo di armeni fu un genocidio cioè uno sterminio mirato alla distruzione sistematica di un intero gruppo etnico. A questa notizia annunciata dal presidente Biden due giorni fa ho voluto rispolverare un articolo scritto nel marzo 2010 intervistando Antonia Arslan scrittrice di origine armena che con il romanzo pubblicato nel 2004 La masseria delle allodole da cui fu tratto l'omonimo film dei fratelli italiani contribuì in maniera determinante a rendere noto al mondo e prima di tutto agli italiani il massacro compiuto per volontà dell'impero ottomano degli armeni di Anatolia fra il 1915 e il 1916 fra questi anche gran parte della sua famiglia di origine fu massacrata prima gli uomini poi le donne costrette ad un lungo doloroso per reganare nel deserto la grande marcia del genocidio degli armeni così viene ricordata donne preve di tutto con i loro bambini affamati e gli aguzzini fra cui ufficiali tedeschi e soldati corti pronti a rapire le donne più giovani e a fare violenze di ogni genere in quell'intervista Antonio Aslan sottolineò la gravità del silenzio steso dalla comunità internazionale sul genocidio armeno nei confronti del quale la Turchia è assunto e continua a mantenere un atteggiamento esplicitamente negazionista atteggiamento che rappresenta tutt'oggi una delle ragioni più forti contro l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea mentre la Francia considera reato negarlo e altri 28 paesi fra cui l'Italia in questi anni lo ha riconosciuto come tale e adesso torniamo sul nostro territorio sulle spiagge dei Lidi Ferraresi volontari in prima linea per la salvaguardia del frattino che rischia l'estinzione nella giornata di venerdì sono stati individuati ben otto nidi subito protetti dai volontari vediamo questo è un nido che è stato trovato oggi e adesso ci preoccupiamo di mettere la protezione e cartelli che segnalano come potete vedere per adesso c'è nuovo solo per cui è appena stato deposto la cova comincerà quando ci sono tre uova come potete vedere intorno all'uovo la femmina e il maschio portano dei pezzettini di conchiglia per mimetizzare il più possibile il nido e l'uovo quattro nidi di frattino sulle spiagge dello scanno di Lido di Volano due a Lido di Spina e altri due a Lido degli Estensi sono quelli individuati dai volontari dell'associazione ornitologi dell'Emilia Romagna che insieme ad altre associazioni salvaguardano una specie in pericolo di estinzione questa è la gabbietta che va piantata leggermente in terra e poi mettiamo i pali di protezione per evitare che per evitare che cani o vento o cosa ribaltano ribaltano la gabbietta e quindi rende inutile la protezione il monitoraggio e la protezione dei nidi di frattino proseguiranno nelle prossime settimane grazie all'impegno di tanti volontari associazioni ed enti il parco cerca di sostenere queste attività collaborando con ASOER quanto più possibile e sostenendo anche i volontari di ASOER e di altre associazioni che contribuiscono a controllare la presenza di questi nidi e soprattutto a fare in modo che i piccoli possano le uova possano schiudere i nidi e i piccoli si possono involare vi chiediamo quindi di starci vicini aiutarci fruendo di queste aree nella maniera più corretta possibile con rispetto e amando la natura che ci circonda siamo vicini a tutto quello che riguarda 360 gradi quello che riguarda il territorio siamo vicini a istituzioni per la salvaguardia della flora della fauna dell'ambiente e tutto quello che riguarda siamo vicini al parco del Delta alla polizia provinciale in questo caso all'ASOER vorremmo dare un contributo sostanziale alla protezione di questo animaletto importantissimo il frattino del quale ci pregiamo di averlo anche qui a Volano e noi saremo sempre presenti in qualsiasi tipo di attività sia di pulizia ambientale sia di salvaguardia della rifauna una bella notizia dunque per chiudere il telegiornale prima di terminare però questa edizione meridiana vi ricordo ancora oggi appunto 25 aprile questa mattina a Ferrara si sono tenute iniziative tra cui la deposizione di una corona dall'oro alla torre della vittoria presenti tra gli altri c'erano il prefetto Michele Campanaro e il vice sindaco Nicola Lodi tutto questo lo troverete sul nostro sito telestense.it e sui nostri canali social Facebook, Twitter, YouTube e Instagram e vi ricordo che ne riparleremo anche questa sera nella edizione delle 19.30 del nostro TV giornale con questo è veramente tutto grazie per averci seguito a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti